Paola Caruso, fan in ansia per lei, cosa sta succedendo? Tra i volti noti di Canale 5 c'è sicuramente quello di Paola Caruso. Ogni sera entra nelle case degli italiani grazie al game show condotto da Paolo Bonolis, avanti un altro. Inoltre con la sua storia tormentata sia a livello familiare che sentimentale, è stata spesso ospiti di programmi come Verissimo o Pomeriggio 5. Da diversi mesi i suoi fan si stanno preoccupando per la sua salute, e così la showgirl ha deciso di rompere il silenzio e di spiegare quanto le è capitato. Paola Caruso dimagrita, fan in ansia, lei svela il motivo. I fan di Paola Caruso hanno imparato a conoscerla nei panni della Bonas di avanti un altro. La Caruso si è rappresentata loro con un fisico scolpito da mille forme, le quali nell'ultimo periodo sembrerebbero essere venute meno a causa di un forte dimagrimento. La showgirl è dimagrita tantissimo, e sono bastate alcune fotografie scattate da suo figlio Michele e pubblicate su Instagram per allarmare i fan. Un fisico asciutto, diverso dal suo corpo di sempre. Molti follower infatti, si sono preoccupati per la salute di Paola Caruso, e si sono domandati quale fosse il problema. E così la showgirl ha pensato bene di scrivere un messaggio per cercare di tranquillizzare tutti quanti. Le parole della showgirl? Paola Caruso ha attraversato un periodo decisamente complesso della sua vita. Suo figlio è stato tanto male, e sicuramente la preoccupazione l'ha spinta a perdere peso. Un dimagrimento evidente che ha fatto preoccupare i suoi fan, i quali le hanno chiesto se stesse bene o se ci fosse qualche problema di salute. La showgirl ha cercato di rassicurare i suoi ammiratori attraverso una storia su Instagram. Per Paola Caruso non è stato un periodo semplice, e così su Instagram ha scritto. Grazie a tutti i messaggi carini delle persone dolci e gentili che mi seguono. Sono dimagrita si è vero, sia per scelta sia perché il dolore ti cambia. Questa è la cruda verità. Ti logora l'anima e il corpo è lo specchio dell'anima. Ora sembra che il cielo mi stia donando un po' di felicità, gioia e amore. Immediata la reazione dei fan, che hanno scritto, mangia, non va bene così soprattutto per il tuo Michele, spero che tu riesca a superare presto il tuo dolore, e, sei troppo magra, cerca di mettere solo qualche chilo.